Avete saputo che comunque a Latina si è allagato tutto, quindi penso che a mare non si può andare. E come lo fa quindi? No, noi volevamo chiedere se potevamo venire sopra a Sezze. E guarda, il spazio ci sta aggiamo a Sezze, solo da azzeccarli potremmo azzeccato tranquillamente. Però ecco, l'unico fatto è l'acqua, male qua mettiamo una piscina da quelli a Sèmondo, uno a Sèmondo, una a San Pietro a fianco da Cingolotto.